Il prossimo incontro Il prossimo incontro Il libro parla dell'antico Egitto, è un grande ritorno all'antico Egitto, una storia d'amore affascinante che accompagna però una grande scoperta. Infatti un faraone donna si innamora del suo amico d'infanzia, alla fine hanno una figlia insieme, lui viene nominato grande sacerdote e lei le affida la figlia. Creano la prima famiglia di fatto nella storia, 1500 anni prima di Cristo, lei a Cepsut, lui Senmut. Ma vengono osteggiati fino a volerli cancellare dalla storia, anche perché lei era una donna e una donna faraone non poteva esistere. Quando lui capisce che vogliono cancellare la memoria di lei, nasconde la verità sull'origine del grande Egitto sul soffitto di una sua seconda tomba, una tomba che non doveva esistere. E poi lo ricopre con l'intonaco, ma qualcuno di recente l'ha scoperto. Torna il grande Egitto, con la donna faraone, forte come un uomo, bella come una dea, custode del grande segreto delle origini. Il primo romanzo di Roberto Giacoppo, la donna faraone, Rai Eri Mondadori, da una storia vera. Il primo romanzo di Roberto Giacoppo, la donna faraone, Rai Eri Mondadori, da una storia vera.